Ciao, quando stiamo? Stiamo a Trastevere, Roma, l'intico posto, ci hanno girato anche tanti film, Thomas Milian, Gombolo, eccetera, classiche trattodie, c'è la fila per mangiare, Tonnarello, bel quartiere, Rastevere, mitico, molto caratteristico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qua si mangia, sempre Tonnarello. Un bel posto, eh? Trastevere ha sempre il suo fascino. Piccolo dei cinque. Grazie a tutti. Bene, a Trastevere è tutto, vi saluto. Ciao ciao. Ciao. Ciao.